amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati oggi una puntata che parte dalla analisi un po nel dettaglio del recentissimo forum economico che si è tenuto a san pietroburgo un passaggio anche questo estremamente importante direi fondamentale nelle logiche e le le dinamiche geopolitiche ed economiche presenti e do subito il benvenuto ad armando sovini l'economista e scrittore armando sovini grazie carlo buongiorno a te ea tutti loro che ci seguono allora questo sarà l'argomento diciamo centrale della nostra intervista ma parleremo anche d'altro so che la tua attenzione è stata molto forte nella analisi e nella comprensione di ciò che è avvenuto allo spiefe il forum economico di san pietroburgo io direi armando di partire con una dichiarazione molto forte di maria zaccarova che la portavoce del ministro degli esteri russo serghei lavrov che ha dichiarato la russia è a conoscenza di come l'occidente abbia fatto pressione su tutti i paesi affinché non partecipassero al forum economico internazionale di siamo di san pietroburgo parole molto forti che sublimano una certa situazione anche no sì si parlava non solo di pressioni ma zaccarova ha parlato proprio di minacce durante le riunioni addirittura quindi sembrerebbe proprio che questo forum economico di san pietroburgo che un po suona da contraltare all'altro forum economico di davos sia un evento che forse sembrerebbe spaventare qualcuno quindi ci sono state proprio queste pressioni molto forti addirittura delle minacce e anche perché poi i temi che sono stati trattati a san pietroburgo sono stati temi relativi alla russia all'economia russa utile proprio aprendo il forum ha detto addirittura si era scusato con i partecipanti perché buona parte del forum avrebbe riguardato l'economia russa e i rapporti della russia con gli stati internazionali con gli altri competitor e anche le sfide dell'economia russa ecco quell'economia che dopo le sanzioni si pensava avesse dovuto crollare invece abbiamo assistito a una crescita economica della russia addirittura in alcune fasi abbiamo anche assistito a un rafforzamento del rublo e quindi ecco per esempio sempre all'interno di questo discorso putin ha evidenziato i successi economici della russia come per esempio la loro tentativa di rimodellare la politica macroeconomica in linea con l'obiettivo dell'inflazione infatti l'inflazione non è salita come si temeva addirittura le banche nazionali hanno mantenuto anche un'elevata attività di investimento e sono cresciuti i prestiti alle imprese del 14,3 per anche alle famiglie del 9,5 per cento poi anche alle persone giuridiche a quelli che putin chiama gli avvocati cioè gli ambiti professionali e il credito è stato erogato in stato un incremento del credito pari al 17 per cento circa e poi agli individui le persone fisiche del 12,9 per cento quindi stiamo assistendo a un'economia che cresce e in controtendenza con la politica macroeconomica dell'eurozona stiamo guardando come nell'unione europea per esempio i tassi della bce continuino a salire e tutto sia orientato alla stretta monetaria per ridurre l'inflazione e ma queste politiche come poi anche gli stessi diciamo membri della bce hanno riscontrato che nonostante tutto l'inflazione non era scesa a gli obiettivi prefissati e quindi la russia viene a porsi proprio come un modello di politica keynesiana perché abbiamo assistito a un aumento del credito quindi diceva sempre putine noi aumentiamo l'offerta ma per aumentare l'offerta dobbiamo aumentare anche la domanda perché se no non c'è più l'equilibrio non c'è più la crescita ma soprattutto putin ha parlato dell'economia russa che deve diventare una economia ad alto salario e questa è proprio una variabile chiave dell'economia della politica economica keynesiana noi sappiamo che quando il benessere quando la ricchezza di un paese cresce assistiamo alla crescita dei salari i quali poi fanno crescere la domanda di consumi di conseguenza gli investimenti e poi l'occupazione e assistiamo a che cosa a una ridistribuzione del reddito quindi notiamo che cosa che con l'aumento dei salari aumenta questa capacità proprio dell'economia quindi aumenta la domanda perché poi i consumi sono ricordiamo anche il moltiplicatore eccetera è il motore della domanda e quindi ecco putin ha proprio affermato di voler trasformare l'economia russa in una economia ad alto salario e anche qui notiamo una controtendenza con l'economia occidentale dove abbiamo notato una caduta dei salari soprattutto a fronte di quelle politiche deflazionistiche che hanno distrutto la domanda piano piano hanno distrutto i consumi e poi anche gli investimenti e lo shock da domanda si è poi trasformato in uno shock da offerta quindi abbiamo ridotto anche la capacità produttiva quindi notiamo come la russia si stia spostando proprio in una linea diametralmente opposta alle politiche macroeconomiche dell'unione europea e penso anche ad altri elementi ecco ne cito alcuni perché sono tanti sono anche molto importanti putin ha parlato anche del sostegno alle piccole e medie imprese che è un elemento chiave per il rilancio dell'economia russa diversamente noi qui in italia in europa stiamo assistendo da qualche anno a questa parte alla distruzione delle piccole e medie imprese e alla esaltazione della grande azienda in questo modo abbiamo poche grandi aziende che poi abbiamo visto basta un ordine dal governo per dire a queste grandi aziende di mettere un green pass quindi diciamo che questa politica delle poche grandi aziende poi si concilia molto con il controllo e anche con le politiche del world economy forum per esempio senti scusami armando io parlo in europa e comunque in italia ormai la politica non fa nemmeno più finta di parlare della del sostegno le piccole piccole medie aziende no ormai non ne parla neanche più non fa neanche più non fa nemmeno più finta ormai abbiamo visto che teniamo conto che anche questa crisi la crisi energetica che è stata appositamente innescata va proprio a colpire le piccole e medie aziende molte hanno chiuso quando si vedono aumentare i prezzi della produzione a libero simile sono costrette poi a chiudere poi c'è stata anche come abbiamo detto prima la politica deflazionistica e anche quello è stato un duro colpo per le nostre piccole e medie aziende ma volevo un attimino portare anche l'attenzione a un altro elemento che putin ha evidenziato lui ha parlato di transizione verso una economia sovrana e parlava di sovranità tecnologica cito dice naturalmente dice putin la sovranità tecnologica non prevede la produzione indipendente di tutti gli elementi è impossibile ma non è a questo che aspiriamo è necessario garantire una produzione indipendente nelle aree critiche cioè questo vediamo anche qui un altro elemento che ci fa notare come la russia si stia spostando anche qui su un altro campo noi abbiamo liberalizzato tutto settori strategici anche ricordiamo lì dai tempi degli anni 90 ad oggi è stato smontato tutto il patrimonio strategico pubblico mentre putin sottolinea la sovranità tecnologica perché questa insieme a quella monetaria è molto importante per il prossimo il nuovo ordine multipolare su cui si sta lavorando e sottolineo è tutto in fieri quindi io esorto sempre chi esamina no le cose con spirito un po manicheo e linearista del bianco nero buono cattivo a non esaminare questa realtà nascente con questi parametri perché poi alla fine si rischia di non capirne più le dinamiche e un'altra cosa importante che putin ha detto è che il governo deve stimolare la domanda questo è un classico elemento keynesiano incontrovertibile e il governo con la spesa pubblica parlava anche di spesa per opere infrastrutturali per rilanciare l'economia e poi ha detto sempre putin oggi si è parlato molto di creare un'economia dell'offerta ma dove c'è l'offerta deve esserci anche la domanda ciò significa che l'espansione del potenziale economico della federazione russa deve essere direttamente collegata all'aumento del benessere dei suoi cittadini e questo è il senso della crescita economica quindi come notiamo è prettamente keynesiana la politica posta in essere dalla russia poi si è parlato dei nazisti in ucraina è stato molto forte putin perché ha detto ha detto ho molti amici ebrei fin da quando ero bambino e tutti dicono zelensky non è ebreo è una vergogna per il popolo ebraico e dice non si tratta di uno scherzo né di una parodia dopo tutto dice i neonazisti i discendenti di hitler sono stati messi su un piedistallo in ucraina e sappiamo tutti chi è che ha messo nel 2014 il governo zelensky al potere poi si è parlato del tetto al prezzo del petrolio e del gas anche qui putin ha spiegato la politica dove abbiamo anche già parlato tempo fa con cui con l'opec plus aveva definito un prezzo del petrolio più alto di quello che avrebbe voluto washington e è molto importante anche la pressione delle sanzioni cioè nonostante tutto nonostante le sanzioni la russia è cresciuta e quindi le sanzioni si sono mostrate un boomerang e questo è oramai evidente sono provato adesso l'undicesimo pacchetto mi sembra sto quasi perdendo il conto dovrebbe essere l'undicesimo sì ma infatti queste politiche diceva appunto anche per pescovar che sia russia che cina dice quando vedono che il loro nemico sta dissanguando internamente lo lasciano correre quindi alla fine queste diciamo sanzioni hanno rafforzato la russia in un certo senso perché si voleva isolare la russia ma abbiamo notato che invece è l'occidente che si è auto isolato e abbiamo assistito a che cosa a una crescita dei brics e anche del commercio tra la russia e i paesi del sud est asiatico molto importante è stato anche un altro tema che era l'abbandono del dollaro e gli abusi dell'autorità americana e putin ha sottolineato come il fatto che molti abbiano proceduto alla de dollarizzazione è dovuto al fatto che gli stati uniti abbiano usato il dollaro come strumento di lotta armata quindi questa moneta non era più affidabile nel commercio mondiale quindi neanche come moneta di riserva e quindi questa fase di de dollarizzazione ricordiamo quando sono stati congelati i fondi russi e poi anche altri altri stati hanno avuto timore delle ritorzioni e hanno cominciato a vendere dollari e acquistare oro ricordo che la scena ultimamente ha riacquistato molto oro e questa dinamica dell'acquisto di oro sta continuando proprio diciamo all'insegna del nuovo sistema finanziario dei brics che si estende sempre di più ricordo che anche l'egitto ultimamente è entrato nei brics e ecco poi un'altra cosa importante poi chiudiamo su questo aspetto è la possibilità di usare armi nucleari perché c'era un giornalista che ha chiesto direttamente a Putin sulle armi nucleari e Putin ha risposto l'uso di armi nucleari è certamente teoricamente possibile per la Russia se c'è una minaccia alla nostra indipendenza integrità territoriale e sovranità ma in primo luogo non abbiamo questa necessità e in secondo luogo il fatto stesso di speculare su questo argomento aumenta la probabilità di abbassare la soglia per l'uso di tali armi cioè ci sta dicendo noi non abbiamo bisogno in realtà se Washington fa propaganda sta cercando solo di abbassare la soglia perché ci sia un click in verso questa questo scenario e in modo particolare poi mi ha colpito un commento che Putin ha fatto a proposito di Donald Trump dicendo che le sanzioni sono cominciate alla Russia sotto la presidenza di Trump quindi anche se non c'erano quegli eventi tragici in Ucraina però le sanzioni sono state imposte e dice non escludo che se ci fosse stata un'altra amministrazione ci sarebbero state maggiori possibilità di avere un dialogo costruttivo e idem su Biden ha dato due righe dice lasciamo ad agire come ritiene opportuno noi faremo ciò che è nell'interesse della Russia e tutti dovranno fare i conti con questo quindi la Russia prima di tutto e di tutti sì ha proprio una di quelle affermazioni che mi ero proprio evidenziato questa frase sibillina neanche troppo faremo ciò che è nell'interesse della Russia e questo dovrà essere messo in conto quindi il messaggio è piuttosto chiaro e c'è stato mi sembra un altro passaggio lo vorrei citare io Armando sei d'accordo dopo tu lo commenterai siamo stati costretti a cercare di porre fine alla guerra che l'Occidente ha iniziato nel 2014 con la forza delle armi e la Russia porrà fine a questa guerra con la forza delle armi liberando l'intero territorio dell'ex Ucraina dagli Stati Uniti e dai nazisti ucraini non ci sono altre opzioni l'esercito ucraino degli Stati Uniti e della Nato sarà sconfitto indipendentemente dai nuovi tipi di armi che riceverà dall'Occidente più armi ci saranno meno ucraini e ciò che era l'Ucraina rimarranno l'intervento diretto degli eserciti europei della Nato non cambierà il risultato in questo caso però il fuoco della guerra inghiottirà l'intera Europa sembra che gli Stati Uniti siano pronti anche a questo sì e questo infatti conferma quello che abbiamo appena detto che la Russia ma l'aveva già detto Putin tempo fa la Russia qualora fosse minacciata nella sua essenza quindi la sua sopravvivenza non esiterebbe a utilizzare la larmi le armi atomiche quindi o Russia o niente sembrerebbe quasi il messaggio e questo credo che sia molto importante perché noi sappiamo che la Russia ha un arsenale atomico quasi unico al mondo sia per quantità ma poi ultimamente abbiamo saputo anche di quei famosi missili personici montati su alcuni sottomarini invisibili che stanno già sulle coste orientali degli Stati Uniti ricordiamo anche la nave iraniana che avrebbe credo passato il canale di Panama per andare verso la California quindi ecco sono tutte strategie militari quindi possiamo dire che gli Stati Uniti si trovano in un certo senso accerchiati anche dalle forze dei BRICS in modo particolare di Russia e Iran come del resto anche la NATO sta cercando di appunto aggirare la Russia isolarla e di mettere al confine anche molte molte armi perché ricordiamo che anche la Polonia ora sta giocando un ruolo molto centrale in Europa sta un pochettino rimpiazzando la Germania è sempre pronta a esternare a fare delle affermazioni poco amichevoli nei confronti della Russia. Armando la Polonia secondo te si sta proponendo come come la principale ancella servitrice degli Stati Uniti in Europa secondo te? Sì 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 il ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti e sto piantando la Germania che ora sta subendo un forte declino e ultimamente leggevo che c'è stata anche da parte di Draghi ma anche di altre personalità l'invito a far entrare l'Ucraina nella NATO il più presto possibile ma questo noi sappiamo che non è una cosa possibile perché i russi reagiranno prontamente e ha detto chiaramente il fuoco della guerra inghiottirà l'intera Europa. D'altronde se le armi degli Ucraini sono finite ricordiamo che poi un tempo fa diciamo che alcune armi gli Ucraini non erano anche in grado di usarle addirittura erano arrivati a leggere i manuali su Google Translator per capire come sparare i missili. Quindi ecco siamo un po' un esercito sembrerebbe un esercito allo sbaraglio con in mano delle armi molto sofisticate. Senti veniamo un attimo anche al conflitto proprio no perché c'è questa controffensiva in corso una controffensiva che mi sembra che anche Zelensky abbia detto che sta andando molto piano e non sta procedendo come avrebbero voluto nelle intenzioni bisogna vedere quanto realistiche erano queste intenzioni poi tra l'altro. Però risulta da fonti ufficiali è assodato che nei territori ci sono moltissimi mezzi della Nato abbandonati addirittura intatti. Cosa sta avvenendo? Perché sta avvenendo questo? E questo è molto bizzarro perché questo si tratta di un comunicato ufficiale di Mosca e sembra che i militari russi abbiano catturato un caro armato nemico, quindi abbandonato lì sul capo. Quindi ecco questo ci fa un pochino dubitare anche della capacità del governo Zelensky di porre in essere una controoffensiva all'altezza con i russi, ma soprattutto anche i problemi di controllo dell'esercito. Leggevo tempo fa sempre su alcuni media russi che il controllo dell'esercito oramai è sbandato, sembrerebbe l'esercito ucraino. E quindi ecco questa notizia ci fa un pochino dubitare della capacità dell'Ucraina di sferrare l'attacco famoso di cui hanno parlato e sembrerebbe che gli Stati Uniti e la Nato stiano scaricando l'Ucraina. Sì, staremo a vedere. È comunque molto grave, no Sibillina per niente, è estremamente grave e pericolosa l'affermazione che si è fatta nell'entourage di Victoria Nuland, segretaria di Stato americano, dove si paventa la possibilità di fornire un'arma atomica a Zelensky con un utilizzo, una gestione a sua discrezione. È uscito anche questo, le fonti autorevoli dicono questo. Come la vedi? Ne abbiamo parlato ieri proprio con Umberto Pascali in collegamento da Washington. La tua lettura Armando? Victoria Nuland è un po' il pitbull di Biden, è stata credo rilasciata appositamente, secondo me per anche cambiare l'atteggiamento verso la Russia. Nuland non ama la Russia. Quindi ricordo un pochino quella affermazione di Hillary Clinton quando disse alle presidenziali schiaccerò il bottone rosso e sgancerò la bomba atomica sulla Russia se è necessario. Ecco, Kankia Baia non morde. Fa un po' sorridere perché già avevano provato tempo fa con la famosa bomba sporca, poi non si sa l'esito degli effetti, ma sempre Putin, ricordavo questo, che sempre durante San Pietroburgo o durante una conferenza stampa, sempre in quei giorni, riportava uno scambio di battute tra lui e il suo amico Chirac e si chiedevano ma perché gli americani sono così aggressivi, entrano sempre a gamba tesa, hanno questo modo poco diplomatico e Chirac rispose semplice perché sono degli incolti. Quindi c'è, credo, anche una questione sia di mentalità ma anche di cultura nella classe politica americana, quindi queste esternazioni. Ricordo che anche Biden qualche giorno fa, dopo la visita di Blinken a Xi Jinping, ha detto che Xi Jinping è un autoritario e l'ha fatto un buon passaggio. È un dittatore, ha detto che è un dittatore. Esattamente, quindi o giocano al poliziotto buono o al poliziotto cattivo, un po' per destabilizzare e testare anche le reazioni della Cina. Però ecco, io credo che Chirac abbia ragione, sono una classe politica molto incolta. Allora, nella nostra panoramica di questo giovedì, caro Armando, adesso noi cambiamo completamente argomento, ma ha a che fare comunque con gli Stati Uniti, perché parliamo di un processo comunque, anche se inevitabilmente non veloce, ma di dedollarizzazione, perché le banche centrali asiatiche, la notizia ufficiale, adotteranno l'alternativa SWIFT dell'Iran. Vediamo, inquadriamo un attimo la situazione. Sì, tutto parte dall'Asian Clearing Union, che è l'unione di compensazione asiatica, che ha deciso di utilizzare il sistema di messaggistica finanziaria iraniano, il SEPAM, al posto dello SWIFT. Quindi sta aumentando il numero dei paesi che aderisce a sistemi alternativi. Ricordo che c'è il SEPAM iraniano, c'è poi il sistema russo di messaggistica e c'è anche il sistema cinese, il famoso CHIPS, che sta per Cross Border Internet Payment System. E questo è molto importante perché poi è la piattaforma su cui si starete in questo momento basando anche il nuovo sistema finanziario dei BRICS, che ricordo, anche in base alle affermazioni e alle conferme, che ho avuto da vari personaggi istituzionali, come General Valley, ma anche come lo stesso Alexander Dugin, coincide con il famoso Quantum Financial System. E di questo poi ne ho parlato anche tempo fa nel libro. E addirittura, ultimamente c'è stata, addirittura anche la Cina, ora, leggevo, che commercia con la francese Total in Yuan. Quindi questo utilizzo delle monete dei BRICS, per esempio Russia e Cina utilizzano Rublo e Yuan, l'India utilizzano i rupi e quindi c'è questa tendenza a utilizzare le valute locali, non senza problemi, perché per esempio adesso l'India ha offerto parecchie rupie, quindi Mosca è costretta a compensare questo eccesso di offerta di rupie, però presto la nuova moneta dei BRICS dovrebbe essere quello strumento con cui compensare appunto e fare appunto la bilancia commerciale e quindi anche le valute. E qualche giorno fa, come dicevo prima Carlo, sono rimasto molto sorpreso perché su Il Sole 24 Ore, nella sezione L'esperto risponde, e l'ho messa poi questa snapshot, ho fatto un'immagine della pagina, l'ho messa sul gruppo Chaos Mega, quindi chi vuole lo può andare a vedere, il titolo è Quantum Financial System, QFS, e tassazione dei redditi finanziari. Che cos'è il QFS, Quantum Financial System? Quali sono le banche italiane che riconoscono questo sistema finanziario? E qual è la tassazione in Italia sui redditi finanziari? Queste erano le domande a cui rispondeva Il Sole 24 Ore. E credo che sia importante che quello che noi diciamo da tanto tempo, di questo sistema quantistico che esiste, e adesso ne parlano anche i media mainstream. Insomma, Il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, possiamo dire, è tornato a parlarne, perché ne aveva già parlato. Sì, sì, aveva parlato di computer quantistici, e poi ti ricordi Carlo che tempo fa abbiamo fatto una puntata su quelle 70 banche di 12 o 18 paesi che avevano segretamente aderito. E adesso qui ci dice Il Sole 24 Ore che le banche italiane hanno aderito già a questo sistema. Quindi quali sono le banche? Credo che nell'articolo poi ci sarà scritto, io non ho avuto modo di leggerlo. Quindi ecco, è una cosa interessante, che quello che noi abbiamo detto mesi fa, anche l'anno scorso, piano piano sta uscendo un po' dall'ombra dell'etichetta complottista, perché poi si è tutti i complottisti, ma dopo sei mesi, no? L'etichetta cade. Sì, praticamente i complottisti sono quelli che le cose le avevano dette all'inizio, no? Ecco, quello che dopo il mainstream, quando li commenta, voglio dire, si scopre che gli sta dicendo, ma i complottisti erano quelli che le avevano dette prima di loro. In pratica, possiamo dire questo. Tra l'altro, in merito appunto al quantum financial system, e vorrei ricordare con piacere il libro, lo vediamo qui in sovraimpressione, il libro di Armando Savini, Sovranità, debito e moneta, che è una parte importante del libro, proprio è dedicata al quantum, al QFS. Armando, direi che siamo in chiusura, abbiamo fatto una panoramica dei temi principali di questi giorni, noi avremo sicuramente occasione di aggiornarci a breve, e quindi io ti ringrazio delle preziose analisi e informazioni fornite anche in questa nostra intervista. Grazie. Grazie a te Carlo, buona giornata a tutti. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori. Grazie a tutti.